Prima dico una roba scherzosa, dopo dico una roba seria, no, scherzosa e anche seria che sono entrato e ho notato il presepietto, l'albero e lì mi sono quasi emozionato e dopo ho visto i doni. Sai cos'erano i doni per il presepietto e l'albero? I biglietti della lotteria del Banco Alimentare e lì ho detto perfetto o no? La giornata di oggi è la giornata che ci siamo andati per farsi gli auguri di Buon Natale. Ci sono tutti i volontari dei diversi ambiti dell'attività del Banco Alimentare qui al magazzino di Padova, ci siamo dati questo appuntamento come occasione un po' per conoscerci perché magari non tutti i volontari conoscono tutti e è un'occasione bella per scambiarci gli auguri e fare un brindisi assieme. Adesso divento serio, giornate così non solo a Natale ma in tanti tanti, come si diceva qua, eventi ma anche al di là degli eventi, ritrovarsi ogni tanto, condividere, al di là dell'evento appunto i valori e la voglia e lo stare insieme sono delle cose che danno l'info a quello che facciamo. Ovvero è una cosa incredibile, grazie, grazie, grazie e mi porto a casa veramente tanta felicità e vedere tanta partecipazione e anche commozione direi è una cosa che dà senso al Natale, è bellissimo. Qui nel nuovo magazzino, nella nuova sede che ci accoglie e siamo molto contenti perché sta diventando sempre più casa nostra.